buongiorno buongiorno roma roma non fa la stupida stasera non mi fate la foto a buona dance ragazzi lo sai dove sono? su roma tutto su roma ciao bellissimo qui raga io mi sto fare un seggio e l'ho bellissima raga outfit of the day Beyoncé style raga ma ieri avevo un abito troppo bello però non ho vloggato però ho fatto foto e video e sono su instagram e tiktok quindi vi aspetto anche lì per vedere e ora andiamo a... dove è che andiamo amore? amore dove è che andiamo? villa borghese si rossano pure i guardi ragazzi mamma mia che succio qualcuno si è tuffato andiamo a vedere mamma mia polizia ragazzi ma che meraviglia è questa città vi prego roma roma cosa sei meravigliosa raga comunque siamo tornati abbiamo fatto un sacco di foto qua c'è anche armi stiamo facendo skin care perché anche lui voleva provare prodotti di depo da che mi stanno piacendo tantissimo e veramente sono buoni tutti naturali quelle stella skin care coreana ed è praticamente questo struccante super efficace perché a base di burri naturali che vanno a rimuovere tutto il makeup e l'impurità dal viso dopo di che si passa al panno umido sempre di depo da e la mousse detergente in questo modo veramente si diminuiscono tantissimo l'impurità oltre al fatto che andate a struccare benissimo tutto il trucco anche dagli occhi waterproof anche dalle labbra dappertutto e poi ha un profumo raga quando lo proverete vi innamorerete di questa formazione quindi primo step questo dopo vedete ragazzi man mano aggiungendo acqua calda man mano si scioglie tutto il trucco e viene via praticamente non vi ungete per niente è bellissimo diventa tipo una crema dopo massaggiate e poi prendete il pannuccio sempre di poda lo passate per magia ferite perfettamente struccate dopodiché passate la mousse questo è veramente il metodo migliore che conosco per struccarmi vi assicuro che da quando ho questi prodotti utilizzo sempre questi per struccarmi perché mi piacciono tantissimo tutto sporco vedete guardate quanto è sporco fantastico adesso la mousse questa è buonissima lattagola nel frattempo che utilizzo la mousse vi lascio anche il mio codice sconto quasi finita tra l'altro il secondo che è del 40% ed è uno sconto veramente straordinario che non c'è mai stato sul sito gli epoda quindi mi raccomando ragazzi i prodotti li pagate quasi la metà approfittate il codice carlita40 vi metto il link nel box informazione ed è veramente l'unica volta che sarà così scontato poi quando scadrà questo codice sarà al 30 massimo 35 ma mai più 40 quindi approfittate link e codice sconto carlita40 anche il link nel box informazione adesso mi sciacquo e poi mi faccio la maschera ragazzi comunque ve li faccio vedere anche da vicino i prodotti mi piacciono tantissimo infatti sono tutti usati questa la mousse è la seconda che consumo infatti praticamente è finita era tutta rossa poi c'è lo spray anche questo è il secondo questo è il burro struccante che anche devo riprendere è buonissimo e questa è la maschera veramente sono ottimi questi prodotti quindi approfittate perché risparmiate tantissimo con il 40% e dura soltanto per novembre quindi carlita40 il link lo trovate nel box informazione raga comunque mi sono appena messa anche la maschera vedete sto facendo questa qua sempre di Iepodam mi piace un sacco perché è una maschera detox alla vitamina C e quindi non solo va a detossificare quindi elimina proprio i punti neri l'impurità i brufoletti ma anche ha un po' dire molto illuminante perché è ricca di vitamina C quindi la pelle dopo è super morbida purificata è molto molto buona se acquistate sul sito prendetela perché è veramente secondo me un top seller di questo brand comunque vi lascio il link nel box informazione ci voleva proprio una bella skin care perché sono stata tutto il giorno col trucco in giro per Roma scattare e comunque la pelle io faccio sempre skin care ogni sera mi strucco eccetera non so perché stavo guardandola però è importantissimo soprattutto quando mettete tanto trucco fare anche maschere peeling scrub io faccio tantissimo queste cose proprio la pelle vi ringrazia anche poi dopo andiamo a nanna e domani si torna a casa abbiamo fatto tanti tante foto ho fatto anche tanti tiktok non so se mi seguite anche su tiktok però seguitemi con armi eccolo qua tiene la maschera sta aspettando quindi vi saluto vi do la buonanotte ciao ciao è stato fatto da me con linguine alla puttanesca ma non sono spaghetti ti piacciono? buono buono poi ho fatto un tortino con l'albume e l'uovo nel microonde vediamo com'è un esperimento un po' di parmigiano buon appetito amore buon appetito ragazzi ho il faro in mano perché praticamente siamo senza corrente a casa però vi voglio far vedere qua c'è il mitico cofanetto carità beauty e vi voglio far vedere raga cioè raga vi dico solo che le amo sono introvabili io le ho trovate guardate quanto sono belle ma me le metto pure ragazzi vi prego quanto sono belle cioè le amo adoro quanto le volevo semplici però belle ora vi faccio vedere l'outfit completo raga l'outfit di oggi che è questo qua io che ho fatto il video con la lampada perché c'è è buio e ancora non è tornata la corrente favoloso comunque mi sono messa anche gli occhiali perché sono ciecata e questa maglia di cds bellissima leggings le nuove scarpe adoro comunque queste scarpe se le volete le trovate sul sito farfetch perché sono praticamente introvabili e anche la borsa guardate quanto è bella aspettate la mia nuova giacchie muse la amo adoro è stupenda se vuoi farvela vedere così bellissima io tutte le mie giacchie muse le prendo su farfetch tra l'altro ho avuto un codice speciale su farfetch quindi ve l'ho dato su instagram ma ve lo do anche qua se volete approfittare perché la trovate tutto scarpe borse vestiti bellissimi e non ci sono mai gli sconti con carlita 10 avete il 10% su tutto e questa qua trovate un sacco di giacchie muse bellissime guardate questa quanta è bella e adoro vabbè ci sono tanti marchi belli tipo anche balenziaga palmingers adoro comunque se volete approfittare carlita 10 è attivo adoro adesso vado vado in azienda vado in azienda carlita shop a controllare i vostri pacchi questo qua invece me l'ha mandato una ragazza guardate che carino devo decidere dove apprendere l'ha fatto lei me l'ha fatto arrivare al magazzino troppo bello adoro vabbè vado comunque ho messo tutte le cose qua e adesso vi faccio vedere perché vabbè le scarpe già ve le ho fatte vedere comunque anche un'altra cosa devo farvi vedere che è lei questa vabbè già l'ho spacchettato ho fatto girato ho fatto anche delle foto un video reel su instagram chi la mi segue su instagram già la conosce la mia nuova giacemius l'amo questa qua l'ho presa sul sito farfetch guardate quanto è bella infatti raga tutte le mie borse cose firmate io le prendo tantissime su questo sito e ho anche un codice sconto per voi che è attivo se state vedendo questo video volete comprare qualcosa risparmiate un po' su questo sito che ha tutti i marchi più belli oltre che le giacemius tantissime marchi se venite sul mio instagram trovate un video reel e lì vi ho scritto anche il codice sconto per farfetch adoro comunque è bellissimo assaggia che anche nelle foto rende benissimo infatti ho fatto delle foto anche a Roma se venite su instagram le vedete adoro comunque adesso vi faccio vedere non so da che posizione mettermi forse è meglio di qua o no no vabbè di là ci fate caso comunque da cosa iniziamo allora questa qua è una cosa che volevo da una vita ma vi giuro proprio da una vita e ogni volta ci pensavo diciamo ma la prendo la prendo ma la userò e poi raga alla fine ho detto no la prendo ho agito di di testa cioè di pancia ma no raga guardate quanto è bella cioè ma quanto brilla cioè adesso sto contro luce mi devo girare per farvi vedere cioè guardate quanto brilla cioè la vita la mia nuova prada tutta sbrilluccigosa cioè raga guardate quanto brilla cioè bellissima la stramo vabbè non è una borsa da tutti i giorni però per le occasioni con un bel abito fa la sua figura e l'amo follemente è già in pole position le mie borse preferite poi questa qua per questa ve la faccio vedere dopo qua invece c'è la felpa di balenziaga in realtà questa c'era nella busta perché Dario invece ha preso le scarpe quindi poi l'ho messa qua dentro per farvela vedere però in realtà me l'hanno data nella busta ovviamente questa è la nuova balenziaga la felpa che abbiamo preso gli armi uguale lui l'ha presa nera io così adoro troppo bella sembra mia mamma quando l'ha vista mia mamma ma che è tutto a rot avevamo ok però è bellissima over l'amo e avevo non avevo una felpa balenziaga avevo un maione o il maione quello poi ve lo faccio vedere e quindi la volevo vabbè l'ho piegata un po' così poi raga qua anche c'era un'altra cosa che io volevo da tantissimo vi giuro ma proprio da tanto proprio cioè sto parlando di anni io non la prendivo mai perché dicevo bah non so ultimamente avevo avuto anche una brutta esperienza se vi ricordate con Louis Vuitton vabbè però questa è una cosa che c'è le scarpe io raga no però le altre cose soprattutto mamma mia raga mamma si è stropicciata ma quanto è bella c'è una pashmina però questa è super calda cioè così mi ha detto che anche se è sottile è super calda ed è questo color oro beige in realtà la volevo un po' più scura perché poi ce n'era un'altra che è proprio il marrone Louis Vuitton avete presente? però era troppo scura volevo una cosa intermedia fra quella e questa ma non c'è vabbè me la dovrò far fare personalizzata dal team Louis Vuitton però il frattempo ho preso questa invece un sacco anche col mio cappotto beige la amo anche questa è super brillante perché ha comunque la seta all'interno niente la volevo da una vita e me la soppiata invece qua raga che bella anche questa scatola allora in questa qua c'è una borsa di Gucci che in realtà non l'ho comprata ora ma l'ho portata ad aggiustare comunque il team Gucci è fantastico raga veramente io qualsiasi problema che ho avuto mi hanno sempre vabbè con tutti i soldi che ho speso sono diventata socia di Gucci però veramente sono bravi e me l'hanno praticamente sistemata quindi sono super contenta perché sono veramente super efficaci efficienti e quindi ci spendo molto più volentieri a differenza di Louis Vuitton che con la cosa delle scarpe penso me la ricordo per tutta la vita comunque questa borsa anche mi piace un sacco me la so fatta aggiustare perché va benissimo per l'inverno anche col cappotto beige e la pashmina adoro comunque raga questo è tutto vi saluto lo fate imparare anche Pupi ve la faccio vedere Pupi visto che mi chiedete sempre di Pupi Pupi stava mandando la musca cioè pure i vostri cani lo fanno vergognati comunque raga Pupi è qua è tutto ok perché mi chiedete sempre ve la faccio vedere diciamo che anche Dania non è che li mostro proprio tantissimo perché sono sempre le persone cattive quindi cerco di tutelare le persone che amo siamo ordinati il sushi sto preparando nelle ciotoline ho fatto la salsa verde ho avuto il tempo sci a casa con Daniel tartare questi sushi che adesso li vedremo sono troppo invitanti ma anche questi qua ci sono gli edamame abbiamo fatto a casa qua l'insalata tada buona assaggiate ecco tutta la buccia li mangi? no no che schifo anche ragazzi adoro questi pure sono buonissimi buon appetito buon appetito